A un certo punto della mia vita sono stata la migliore pattinatrice del mondo. E quello me lo chiami pattinare? Con Jeff ho avuto il mio primo appuntamento. Avete già scopato? Venne anche mia madre. Sapete, non ho mai nascosto a nessuno di essere nata povera in una famiglia disagiata. Perché questa sono io. Perché un polteggio così basso? Giudichiamo anche la presentazione. E allora fottetemi! A noi serve il modello di una famiglia felice. Io non starei mai con una merda che mi picchia. Tu picchiavi papà. Almeno quando ero piccola mi volevi un po' di bene. Ti ho resa una campionessa. Sapendo che mi avresti odiata, questi sono i sacrifici che fa una madre. Tu mi hai rovinato. E a tutti quelli che vogliono farmi fallire, sapete cosa dico? Io non mi arrendo mai. Mi hai rovinato. Cosa spettare? Cosa spettare? Cosa stuja?